Musica Vuoi vincere una skin o devobux gratis su Fortet? Bastare iscriverti attivando la campanella, lasciare like e condividere il video Più amici fare iscrivere più possibilità di vincita avrai Non mancherai nelle mie live su youtube se vuoi vincere skin, pass battaglia o vobux Benvenuti, in questo nuovo video andrò a vedere come sbloccare lo stile ombra o spettri della skin Miaioscolo La skin Miaioscolo, eccola qui Questa settimana sono uscite le sue sfide che ho caricato sul canale Quelle più difficili ho caricate sul canale Ecco, potete vedere anche dalla schermata di spettro di Miaioscolo Le sfide sono più o meno tutte abbastanza semplici Due di visitare dei luoghi, aprire dei forzieri, infliggere danni con le mitragliatrici Calciare un pallone, infliggere danni mentre si usa un cartone insidiante E non prendere, non morire lanciandosi da 5 o più piani Queste sono le sfide che ho caricato sul canale E oggi andrò a vedere, come già detto, come sbloccare lo stile ombra o spettro Come abbiamo sbloccato per Brutus Che abbiamo sbloccato, io ho preso la versione umbre Perché mi piaceva di più E invece nitroglicerina ho preso quella spettro Perché secondo me è molto più bella di quella umbre Oggi, adesso invece andrò a vedere quella di Miaioscolo Questi sono i due stili Spettro si presenterà così Sarà bianca, sarà tutta bianca Mentre ombre sarà tutta nera Sinceramente tra queste due io preferisco quella ombra Quindi clicco qui su visualizza Per sbloccare la sfida Che ci permetterà di ottenere questa versione della skin Dovremmo, prima di tutto, acquistare il pass battaglia Questo si sa Raggiungere il livello 60 del pass battaglia Io sono livello 59, quindi ci sono E completare 18 sfide di Miaioscolo Cioè dovremmo completare le sfide che sono uscite questa settimana di Miaioscolo Più altre 8 sfide che usciranno giovedì Quindi giovedì, completando 8 delle sfide di giovedì Potremo sbloccare la missione La missione adesso non la possiamo vedere Però per tutte e due i casi Tengo già la schermata pronta Di quale sarà la missione La missione ci dirà di Dobbiamo ottenere lo stile ombra Cioè questo Dovremmo consegnare i pesci all'ombra Cioè dovremmo consegnare tipo dei pesci all'ombra Questa sfida poi, su come completarla Ve la porterò stesso giovedì Perché giovedì si potrà sbloccare questo stile Praticamente credo che dovremmo pescare dei pesci E poi se vogliamo lo stile ombra Dovremmo portare questi pesci e consegnarli alla cassetta delle ombre Se invece vogliamo lo stile spettri Dovremmo pescare dei pesci e portarli alla cassetta degli spettri E sbloccheremo questo stile Queste sfide usciranno giovedì Adesso questo video l'ho già portato in anticipo Per farvi vedere quando si potrà sbloccare E quando potremo ottenere questo stile O ombre o spettri Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti Quale stile voi prenderete Tra miascolo ombre o spettri Io forse prenderò ombre Perché forse mi piace di più Invece di brutus ho preso lo stile ombre Di intro glicerina quello spettri Quindi fatemi sapere quale stile prenderete Tra questi due La sfida uscirà giovedì Quindi attivate la campanella Iscrivetevi al canale Così sarete aggiornati Su quando far uscire questa sfida E la completerete proprio in pochissimo tempo E condividete il video a tutti i vostri amici Se questo video vi è piaciuto Noi ci vediamo a un prossimo video Se vuoi vincere skin o pass battaglia Vedi le istruzioni che do a inizio video E noi ci vediamo a un prossimo video Bella a tutti E noi ci vediamo a un prossimo video Ciao